Siamo qui al mercato delle Pulci per dare un segnale ai palermitani, alle persone che lavorano qui, ma soprattutto a questa amministrazione che ha totalmente abbandonato questa zona. Come Lega stiamo lavorando a un progetto di riqualificazione del mercato, ma diciamo anche a questa amministrazione che non può lasciare questi alberi in questo modo non potati, che lasciano fogliame che è pericoloso e che sono pericolosi anche in sé. Siamo qui oggi con la consigliere di circoscrizione Maria Pitarresi, con altri volontari e con tanta gente, perché Palermo ha bisogno anche di cittadini che prendano in mano la situazione e che dicono che le cose devono cambiare. Oggi con un gruppo di cittadini residenti per cittori del reggito di cittadinanza siamo al mercato delle Pulci. Abbiamo avviato diverse segnalazioni per la regolarità dello spazzamento, dato il fogliame che si viene a creare e si forma un tappeto pericolosissimo e viscido, già sono stati diversi gli incidenti. Oggi abbiamo deciso di spazzarlo noi e di pulirlo noi, dato che l'amministrazione ritarda a farlo. Grazie a tutti. Va bene, Graudio.